Buongiorno e buona giornata a voi tutti cari amici Fanta sottoscritto Nicola De Lucia in questa nuova giornata che a trani è un po' uggiosa e nuvolosa ma a parte questo parliamo del vero motivo per cui apriamo questo primo video Calcio Italiano Coppa Italia Serie A Serie B i team semifinali Milan Juventus 1 a 1 primo turno Rossoneri che passano in vantaggio nella ripresa con Rebic e poi raggiunge Cristiano Ronaldo per l'1 a 1 definitivo al 91esimo sul calcio di rigore pareggio quotate bookmaker a 3,30,45,25 ora turno di ritorno che in pratica si svolgerà credo i primi di marzo ora la regia ci dovrebbe dare vediamo un po' allora il 4 marzo si all'Allian Stadium allo stadio della Juventus quindi ribadisco per la gara di andata Coppa Italia semifinale Milan e Juventus 1 a 1 ciao a tutti